Ciao a tutti, allora ben trovati al nostro appuntamento settimanale degli incoerenti anonimi come sapete questo è uno spazio condiviso e protetto dove non dovete avere paura di esternare le vostre incoerenze. Allora c'è qualcuno che vorrebbe cominciare? Vabbè posso cominciare io? Prego. Ciao sono il PD. Ciao PD. Sentiamo PD, quali sono le vostre incoerenze? Vabbè noi diciamo che vogliamo cambiare i decreti sicurezza e poi non li cambiamo. Diciamo di non voler governare con la Lega e poi ci governiamo. Diciamo di voler fare lo IUS soli e non lo facciamo. Sì bene sono tutte cose che dici sempre però proviamo a guardare il quadro più generale. Qual è la vostra più grande incoerenza? Dai ce la puoi fare. Ah sì che diciamo di essere un partito di sinistra e poi invece non lo siamo. Bravo PD. Bravo PD. Bravo PD. Ciao a tutti io sono Italia Viva. Ciao Italia Viva. Ciao Italia Viva. Noi abbiamo detto che lasciavamo la politica dopo il referendum perso e siamo ancora qui. Abbiamo sempre contestato i partitini al 2% tipo Mastella e adesso che siamo come loro pensiamo siano fondamentali. Noi abbiamo sempre... Ma voi chi? Noi. Ma perché parli al plurale? Non ti segue più nessuno? Non mi sono ancora abituato. Ah facciamo comunque un applauso di incoraggiamento. Dai io il merito nostro. Alla Viva. No. Io. No va bene. Va bene. Ciao. Io sono il Movimento 5 Stelle. Ciao 5 Stelle. Allora noi abbiamo detto nessuna alleanza e poi in realtà ci siamo alleati prima con la Lega e poi col partito di Bibiano. Scusami. No. Figurati. No TAP. No TAV. No Draghi. In realtà abbiamo votato tutto. Però su una cosa rimaniamo intransigenti. Massimo due mandati. Cioè col mandato zero poi diventano tre. Ma poi basta. Chiusa lì. Bravo 5 Stelle. Grazie. Bravo. Bravo 5 Stelle. Ciao sono la Lega. Ciao Lega. E niente noi avevamo una certezza che odiavamo i terroni e poi abbiamo chiesto i voti al sud. Poi l'Europa no, poi l'Europa sì. Draghi è cattivo, draghi è buono. Poi è arrivato il Covid. Prima c'è, poi non c'è. Poi c'è un po'. Sulla mascherina, giù la mascherina. Apri tutto, chiudi tutto. Ma adesso qual è la vostra posizione? Ma non lo so. Prova a fare uno sforzo. Ti sarà rimasta un po' di coerenza, no? Vabbè sì, odiamo ancora i negri. E i froci. Grazie. Ciao a tutti. Io sono Forza Italia. Ciao Forza Italia. Vado spedito perché le cose da dire sono veramente tante. Innanzitutto abbiamo sempre fatto gli interessi del nostro padrone spacciando per bene comune leggi al personamo. Siamo stati fra i primi a nominare ministri e assessori totalmente incapaci scelti unicamente per la loro fedeltà. E devo dirlo, insomma, adesso lo fanno un po' tutti. Abbiamo avuto importanti rapporti con Cosa Nostra e questo lo dico con un po' d'orgoglio. Insomma, abbiamo contribuito notevolmente al decrino politico, sociale e culturale dell'Italia, compromettendo totalmente la nostra reputazione all'estero. Poi un'ultima cosa importante. Siamo ancora totalmente convinti che Ruby sia la nipote di Mubarak. Mubarak, insomma, come cazzo si dice. Scusami, forza Italia, ma mi sembra un percorso estremamente coerente. Lo so, infatti. Io stavo cercando il corso di rumba, che mi hanno detto che era pieno di figa. E ti sembra un corso di rumba? No, ma tu mi sembri una gran bella figa, però. Vabbè, io vado a ballare, dai. La rumba, la rumba, la rumba! La rumba, la rumba, la rumba, la rumba! La rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba!